Buonasera da San Rocco di Capodimonte, è appena terminata la partita del recupero della quarta giornata del Girone B, lo Sporting Rondine travolge 10 a 2, i Pimentos, migliore in campo a Francesco Novato, complimenti Francesco. Grazie. Comunque complimenti a tutta la squadra che avete giocato davvero alla grande, è arrivato anche il primo posto in questa vittoria. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sconfitto i secondi in classifica, una bella squadra ma quando siamo in forma non ce n'è quasi per nessuno. Questo volevo dire, dopo le prime giornate un po' così, adesso la forma si vede. Sì, stiamo prendendo la forma e speriamo di giocarcela fino all'ultimo in questo torneo. Francesco, oggi ci mancavano Finizio e Troncone, però Crasta e San Marco hanno giocato alla grande. Sì, Crasta e San Marco già facevano parte del nostro gruppo quindi non è cambiato nulla. Siete una squadra affidata. Grazie. Dedichi questa migliore in campo e questa vittoria a qualcuno in particolare? Beh, la dedico alla mia squadra che se non fosse per loro non sarei arrivato qui. Complimenti Francesco. Grazie, buona sera.